A Palermo, per provare a chiudere definitivamente il discorso salvezza, questo pomeriggio la Sampdoria scendereà in campo al Renzo Barbera per affrontare il Rosa Nero in un match che ha il sapore dell'ultima spiaggia per la formazione tornata nelle mani di Davide Ballardini, mentre per i blucerchiati di Vincenzo Montella rappresenta un ghiotto match point per mandare in archivio la stagione. All'andata, la Sampdoria vinse 2-0 a Luigi Ferraris grazie alle reti realizzate nel secondo tempo da Roberto Soriano e David Ivan al suo primo centro in Serie A. Quel successo rappresentò per l'aeroplanino una boccata d'ossigeno fondamentale prima della sosta natalizia per continuare a lavorare su una squadra in cerca di identità e impaurita da una classifica che stava diventando preoccupante dopo le tre sconfitte consecutive iniziali e il pareggio ha guantato in extremis a Roma con la Lazio. Da quella sfida, la Sampdoria ha continuato a viaggiare sull'ottovolante migliorando il gioco ma faticando a trovare continuità in termini di risultati mentre il Palermo si è complicato la vita passando da una guida tecnica all'altra secondo la tradizione del vulcanico presidente Maurizio Zamparini. Palermo che agli stessi punti 32 ottenuti dopo 35 giornate nel campionato 2012-2013, stagione in cui terminò al diciottesimo posto con conseguente retrocessione in Serie B. Nelle ultime due giornate però i siciliani sono rimasti imbattuti pareggiando 2-2 in casa con l'Atalanta e andando a vincere lo scontro diretto in casa del Flosinone e cercano il secondo successo consecutivo che manca dalle prime due giornate di campionato. Quattro gli ex palermitani tra i blucerchiati il portiere Viviano, i difensori Cassani e Silvestre ed Edgar Barreto, Andrea Rispoli protagonista della grande cavalcata dalla Biala della Samp nella stagione 2011-2012 ed Enzo Maresca, gli ex blucerchiati nelle fila dei siciliani. In rosa nero non perdono al Barbera contro i blucerchiati dalla stagione 2007-2008 quando a decidere l'incontro furono la punizione magistrale di Cassano e il colpo di testa di Maggio su corner di Palombo. Da allora tre pareggi e due vittorie per gli isolani, l'ultima sfida in ordine di tempo giocata all'ex favorita termina in parità. Era il 31 agosto 2014, gara d'esordio della scorsa stagione e al golo a freddo dell'attuale bomber bianconero Dibala rispose al 91esimo Gastaldello. Nelle novembre 2012 invece l'ultima vittoria del Palermo che superò il Doria per 2-0 grazie alla doppietta di un giovanissimo Dibala. Sono 23 in totale i precedenti che si sono disputati in Serie A tra Palermo e Sampdoria allo Stadio Barbera. La squadra rosa nero è nettamente in vantaggio negli scontri diretti con ben 11 affermazioni in casa e soltanto 4 sconfitte mentre sono 8 le sfide in cui le due squadre si sono divise la posta in palio. Per questa sfida Vincenzo Montella ritrova Ranocchia che scontato il turno di squalifica ritornerà a guidare la difesa e ha recuperato Cassano e Ricchi Alvarez, due elementi in ballottaggio con Correa per affiancare Soriano alle spalle di Quagliarella. Il centravanti Doriano va alla ricerca del gol che manca da sei giornate ovvero dalla trasferta di Empoli mentre Soriano in caso di marcatura raggiungerebbe quota 9 in campionato la stessa cifra di reti realizzate in totale nelle tre precedenti stagioni in Serie A con la maglia della Sampdoria. Convocazione con la prima squadra anche per il centrocampista della primavera Giacomo Calò classe 97 che avrà la maglia. Numero 28 Davide Ballardini dovrà rinunciare a González squalificato mentre per il resto la formazione da opporre al Doria dovrebbe essere la stessa che ha espugnato il Matusa di Frosinone. Una gara con tante chiavi di lettura dunque ma con il Palermo costretto a cercare la vittoria a tutti i costi per poter continuare ad alimentare la speranza di restare in massima Serie. La Sampdoria con la voglia di conquistare il punto che manca per raggiungere la matematica permanenza in A e per poter poi preparare il derby dell'8 maggio con la giusta concentrazione.